Ecco a voi, Holorin Iniziamo Ufficialmente il content di oggi Dove minchia è la roba Star Comics? Dovebbe essere questa? Yes, eccoci qua Star Comics, iniziamo subito Con il fumetto più bello di sempre Scherzo Dragon Ball Ultimate Edition Numero 13 13 13 Che bello, che bello Guarda, guarda La parte Che bello, la parte che veramente da piccolino Mi ha fatto venire il cazzetto durissimo Vabbè Segniamoci, Star Comics, vai Io ragazzi Io spero che chiunque di voi non abbia mai letto Dragon Ball e lo stia facendo Recuperando, innanzitutto lo stia facendo Cosa importante, poi Se lo sta facendo con questa edizione Fa anche meglio perché è un'edizione davvero Molto bella Tra l'altro Da 14 inizia Z Dovrebbe iniziare Z O il 14 è proprio Ah no, no, no Allora nel 14 finisce Dragon Ball Nel 15 inizia Z Poi Dragon Ball Super, ragazzi Dragon Ball Super Dragon Ball Super Goodbye Goodbye Hurry Ma scusa ma non l'avevano già Ceo Dinos Non era già uscito questo Perdonate Io non ce la faccio più con la roba di Fujimoto Non era già uscito questo Boh Vabbè Questa è l'edizione deluxe di Goodbye Air Storia autoconclusiva di Fujimoto Appunto nell'edizione deluxe Che è Dimensione Identico a Dragon Ball Ultimate Quindi edizione Formato perfect Cartonato Non so se con sovracoperta Onestamente non credo No, qua non è specificato Beh, comunque E poi vabbè C'è ovviamente C'è anche nella versione Tankobon Più piccolina A 5,90€ Per chi sta seguendo tutta la Tolto e messo tre volte E poi posto su Instagram Ah ok, ok Grazie Dinos Che fastidio per quale cazzo di motivo Non l'hanno messo nel box Con gli altri tre Questo non saprei Forse perché magari I diritti per questo Gli sono arrivati dopo Star ha comunicato Che le uscite del 3 maggio Sono state anticipate al 6 aprile Ah, quindi questo uscirà prima? Ah no, però questo è 10 maggio Quindi non è quel Filippo Vabbè Io non Chi è sta roba? Let's IQ Lo spin-off dedicato alla serie Sulla palla a volo più amata Che vuol dire lo spin-off? Ma hanno fatto lo spin-off di IQ? Let's IQ racconta la trama Del celebre manga Sotto forma di strisce comiche Da quattro vignette Riuscirete a trattenere le risate? Sì Sì Summertime Rendering 2026 Mizenji Ko Buken Titolo provvisorio Cioè Ormai Titolo provvisorio Bello Questo mi ha fatto molto ridere Titolo provvisorio Quindi non sarà neanche chiamato così Vabbè E Anche questo è uno spin-off Vabbè Quindi possiamo andare Oh Finalmente una novità Una novità di cui ho sentito parlare bene Almeno della trasposizione animata Ho sentito parlare bene Di Ranking of Kings Io ammetto di non averle esplorato La lettura Della serie cartacea Quindi non ho letto banalmente le scan Però Chi ha seguito La trasposizione animata Me ne ha parlato bene Ecco appunto L'anime è una delle cose più belle mai fatte Però A me L'anime Come sapete Non interessa Quindi I disegni Sono di una monnezza assurda Benissimo Ciao Big Buets Che cosa fa? Dove non ti ho letto Big Buets Scusami tesori Io lo sto facendo E ho il cazzetto Dura anche a 30 anni E sì A 30 anni ho ancora il cazzetto Vabbè Questo dovevo leggere Big Buets Vabbè Quindi mi sa che Mi avete fatto un pochino scendere Manga che regalerei immediatamente ai miei figli No Quello per carità ci potrebbe stare Però Sono disegni che mi piacerebbe in un geek Ma in realtà nel geek è anche un po' meglio Volevo imitare delle fiabe Credo Forse imitare Vabbè Comunque All'acchi C'è poco da dire Che è sta roba? Mazzate? Attenzione Io mi ingasso sempre Con i manga di mazzate Gigantis Che cos'è questa cosa? Ma Eders Perché mi dice qualcosa Questo nome? Non lo so Gennon liceale Che vive sull'isola di Tsushima Insieme alla madre E alla sorella malata Sta trascorrendo La mattinata Come al solito Ma per colpa di uno sconosciuto essere Apparsa all'improvviso La sua tranquilla esistenza Cambia drasticamente In un attimo Infatti Quella mostruosa forma di vita Che ingurgita e assimila Le persone Si impadornisce l'intera isola E del destino dei suoi abitanti Se l'umanità Non riuscirà a trovare Una soluzione al più presto Potrebbe avere i giorni contati Inizia così Una storia di fantascienza E sopravvivenza Illustrata dal talentuoso Disegnatore di Terraformars Ah ecco perché In cui Il vero rischio è quello Di lasciarsi divorare Dalla disperazione Ok allora Non sono mazzate Roba pseudo Fantascientifica Quindi Allà Chi si schippa Si schippa Si schippa easy Pensavo fosse Allora Dovete Per farvi capire Come ragiono io Se è un manga di mazzate Ignorante Come Record of Ragnarok Okian Ganashura Si compra Se è una roba Che vuole fare Tutto un discorso Serioso E poi non ci riesce Basta Basta Andiamo avanti Dai Yuri is my job Non si sa neanche La copertina Anime annunciato Non dicono un cazzo La serie Girls Love Più attesa Ah quindi ci sono le sforbiciate La serie Girls Love Più attesa In uno speciale pack Per celebrare il lancio Della serie I primi due volumi Verranno subito Verranno Saranno subito disponibili In uno speciale pack Con in aggiunto Un fantastico diorama Di carte in omaggio Però non mettono Tipo Star Comics Metteva Hot Level Non li mettono No Ma ci stanno Le signorine nude Qua E perché non c'è Hot Level Ah no Ok Forse allora è meglio di no Forse è meglio che non ci siano Le signorine nude Mi sembrano Minorenni Quindi forse è meglio che non ci siano Nude Almeno invece di fare solo Boys Love Ci sono anche Girls Love È importante No Con un fantastico box Da collezione Per contenere tutti e quattro i volumi Della serie Poi c'è un volume extra Sicuro Tipo con Noin Una mattina Ad un giorno d'estate A Kaoru Tono Liceale Di un paesino Di campagna Capita di sentire Una leggenda metropolitana Si dice che da qualche parte Ci sta un tunnel In grado di esaudire Il più grande desiderio Di chi vi entra In cambio di un certo numero Di anni di vita Ma è una metafora Per la figa Scusatemi Lo chiamano Tunnel di Urashima Ma più che tunnel di Urashima Vabbè Quella notte uscita A fare una passeggiata Kaoru si imbatti In un luogo sovrannaturale E incuriosito Decide di testarne i poteri Vabbè Ragazzi Il parallelismo Credo sia Sotto gli occhi di tutti Sperando Che si tratti davvero Di quel luogo misterioso Di cui ha sentito parlare Ma è un Olo rinesse Che parla della figa Veramente Ecco a voi Una strana e malinconica Avventura estiva Che vi lascerà senza fiato Ed eccola qua la figa Ovviamente Arriva l'adattamento manga Del pluripremiato Romanzo Da cui è tratta Anche un film di animazione Strane gambe La signorina E Boh Non so Onestamente Credo sia Per me Uno skip easy Poi Fatevo Ma poi perché hanno messo Ah perché questa non sarà La copertina del manga Forse questa è tipo La Non lo so Sì Sì Dovrebbe essere tipo la copertina Ah no perché non l'hanno messa qua Vabbè I am BTS Ma questo è proprio Fumetto per Ilaria Il volume comprenderà Un set di sticker E una bellissima Illustration card La famosissima Boy band Composta da sette membri Trasmette messaggi di speranze Di consolazione ai giovani Attraverso la musica Diventando così Una travolgente icona Da record in tutto il mondo Da quando erano solo Degli apprendisti Che segnavano Sognavano il debutto Fino alla piena maturità artistica Questa è la storia Del loro grande successo Arriva un ritratto A fumetti A 360 gradi Di BTS Un'opera imperdibile Per tutti i fan Arricchita da interessanti Approfondimenti Sulla cultura idol Sul K-pop E molto altro Come due Ah perché c'è Ecco Questo già sono più interessato Perché c'è I am BTS Per le signorine O per i signorini Che hanno interesse In altri signorini E poi c'è I am Blackpink Che è Speculare I am BTS Solo per Con la Con la Il volume Comprenderà un set di sticker E una bellissima Illustration card Su cui fare il tributo Ovviamente Le Blackpink Dimostrano di essere Un gruppo di livello planetario Attraverso le loro performance Di forte impatto Rifliutando di considerarsi Solo e semplicemente Adorabili Come il colore rosa Venite a scoprire le loro storie Dal momento del debutto Fino alle esibizioni Sul paccon scenico mondiale Che le hanno portate A diventare uno dei gruppi musicali Più celebri al mondo E la prima girl blend Del K-pop A entrare nella classifica Di billboard Alle più alte posizioni Tra l'altro Per chi non lo sapesse Io non so se c'è ancora in chat Ma non mi interessa Lo dico lo stesso Perché E' una cosa importante Da sapere Le Blackpink Sono il gruppo musicale Preferito di Gian Maria Punto esclamativo Gian Con la J Quindi sicuramente Lui le compra Tra l'altro I due volumi Costano 17 euro e 90 L'uno Tra l'altro Costano un bordello Tanto dimensione Perfect Cioè dimensione Perfect Brossurato Però costa 20 euro Vabbè E Andiamo avanti Demon Slayer Kimetsu Noyaiba Official Fanbook 2 di 2 Questo Per chi E' interessato Ai fanbook Ragazzi Onestamente A me Non interessano Però so che alcuni di voi Ci vanno pazzi Per i fanbook E per Dimo Slayer Quindi io Non 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 commento My Hero Academia 36 Oh si segna finalmente Qualcosina Ma è bella Le cover di My Hero Academia Sembra molto molto belle Quant'è che è aumentato Ora My Hero Academia 5 e 20 Potete trovarlo anche su Netflix Prime Video e Crunchyroll Importante Importante Da sapere Perché mi ha Copiato Ok Va bene E devo dire che anche ultimamente Kimetsu Sì Kimetsu Il cazzo My Hero Academia My Hero Academia Mi sta Mi sta Mi sta Mi sta Mi sta piacendo molto Ne ho parlato Quando ho fatto Le letture della settimana Dei volumi Fino al 33esimo volume Mi pare E mi sta piacendo molto Poi Kaiju numero 8 Volume 8 Bella questa Gags Blue Box A Couple of Kakus Welcome to the Ballroom Che io E anche qui Mi continuo a segnare Ma il primo Ancora non l'ho letto Però Io continuo a segnarmelo Al massimo Poi si fa La Isaya Move Ovvero si vende tutto Poi Therapy Game Restart Record of Che cos'è Ma perché la limite Delice Che cos'è La limited edition Di Record of Ragnarok Perché limited Per celebrare L'uscita Del quindicesimo volume Ma ora Scusatemi Scusatemi Va bene tutto Ma che cazzo Di celebrazione È l'uscita Del quindicesimo volume C'è neanche Neanche Una cifra tonda Che celebrazione È Sarà disponibile Anche una limited edition Con tre fantastici Sette di sticker Eh certo Quant'è Che costa di più Cioè Ma veramente Scusatemi Veramente Tre sticker Sì Tre sticker Ah no Tre fantastici set Di sticker Ok Tre set di sticker Due euro e quaranta Veramente Celebraio il quindicesimo volume Come la Ferragni Che fa la torta Ogni mesiversario Della figlia Praticamente Sì Boh Vabbè Io Continuo a segnarmi Record of Ragnarok Normale Ragazzi Che già di base Costa assai E basta Dio santo Il quindicesimo volume Ma che celebrazione Cioè potevo capire se Succedeva qualcosa Se Perché usciva il film La serie Che cazzo ne so Ma il quindicesimo volume Che celebrazione è 80 centesimi a 7 Dai ci sta Neanche per stamparle Dipende quanto è grosso Su sticker Così Così Marco Questa è la grandezza Dello sticker Celebraio che non sia morto Ma è divertente Regolo Ragnarok Che belle mazzate Ti diverti E basta The Boxer Volume 2 Sweet Home Volume 6 Di 12 Ah si sa quanti sono Di Sweet Home Ok Cavaliere dello Zodio Con Final Edition 5 di 20 Non leggete il manga Di Cavaliere dello Zodio Ecco Shaman King Flowers 4 di 6 Il sequel di Semen delle 6 Chi è? Non mi interessa Chi sia Clamore New Edition 7 di 27 From the Red Fog Pericoloso Trillion Game Volume 3 Io ancora me Me lo sono segnato il 2 Di Trillion Game Sai che non ci penso Oh Sai che non ci penso Se me lo sono segnato il 2 Prima di segnare il 3 No Mi sa che non me lo sono segnato il 2 Perché volevo aspettare Di capire Eh mi sa di si Mi sa di si E allora non me lo segno Dai No 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 Ok non ce l'ho segnato Va bene Allora si aspetta Si aspetta Cioè nel senso poi si Ma poi è Johnny Depp Questo Finché morte non ci separi Scam Wish Io non ho la principessa Carlatta Kamisama Kiss A Sign of Affection Shira Yugi I capelli rossi Tu ieri eterni Tietà Ticona New Edition 35 Adò numero 5 Adò me lo segno Però devo essere sincero Ragazzi Ne ho parlato Ultima me Quando ho fatto Qualche settimana fa Le letture della settimana Di quella settimana lì Il quarto volume di Adò Mi è veramente sceso Cioè No Fairy Tale Collection 11 di 11 Ragazzi potete finire Finalmente i cofanetti Di Fairy Tale E iniziare 100 Year Quest No Sì No Com'è che si chiamava Boh mi ricordo Sanctuary 6 di 6 L'ultimo volume Della nuova edizione Di Sanctuary Io spero che voi Lo stiate recuperando In questa nuova edizione Ragazzi Perché è davvero Un bel 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 fumetto Domanda per la chat E anche per te Piccolo Valerio Qual è la serie manga più lunga Che state seguendo Leggendo Comprando La serie più lunga Che sto seguendo Cioè di cui si sa La fine Gian Credo sia proprio Dragon Ball Che sono 34 numeri Perché poi c'è Kenshi Ah no Vabbè In realtà Tower of God Non la considero Come serie Che sto seguendo Perché i Kenshin Sono 22 E in realtà Basta C'è altre serie lunghe Ah no Che cazzo dico Kingdom Kingdom Chissà quando finirò Kingdom Chissà Però lì Non si sa neanche La fine E questo è il fatto Quindi Di manga Di cui si sa La fine Ti dico Dragon Ball Di manga Di cui non si sa La fine Ti dico Kingdom Valerio sto incazzato Ho letto il 1078 Vorrei che finisse Sta saga di merda Io lo leggo domani Quindi per carità di Dio Non spoilerate Comunque ho finito Trillo e Bark Valerio Hollerin Ti è piaciuto? Ciao Natalia Punto esclamativo Slayer Punto esclamativo Slayer ragazzi Bravo Cyber Dragon Ball Non finirà mai Non ti illudere Ma si che finirà Dragon Ball Andiamo avanti Eccolo qua Kenshin Assurdo Nominato In questo esatto Momento Kenshin Volume 8 Però paradossalmente Ragazzi Paradossalmente Kenshin Finirà dopo Di Dragon Ball Perché Dragon Ball È mensile Quindi sono 34 mesi Kenshin invece È bimensile Quindi saranno 44 mesi Quindi paradossalmente Ho visto la vita Certe volte Ragazzi Oppure Sandman Che doveva essere Semestrale Ma probabilmente Sarà annuale Quindi 7 anni Ci vorranno Per finirlo Però questi sono Dettagli Ehm Andiamo avanti Me lo sono segnato Ah no Forse non mi sono segnato Il costo 9 euro Mi sa che è un po' troppo Star Comics Sto mese Eh minchia Già 50 euro Ma siamo pazzi Siamo Che cos'è sta cosa Di Sweet Paprika Un volume speciale Che amplia L'universo della serie Che ha vinto Il prestigioso Harvey Awards Ma che cosa Cosa contiene Torna con alcune Storie inedite Per una speciale Antologia Easy Skip Easy Oh Arriva La roba occidentale Finalmente Dopo mesi Sean Goddard Murphy Subito No Subito no Aspetta Subito no Un racconto D'azione personale Divertente Firmato da Sean Goddard Murphy Batman White Knight Se lo so Punk Rock Jesus Se lo so chi è All'uscita il volume Sarà disponibile Anche nella versione Regular Perché ovviamente È impossibile fare Allora Allora Qua c'è una Una cosa Particolare C'è una cosa Particolare Perché Non è una variant L'altra È proprio Un'altra edizione Cioè è tutto Un altro formato Perché Questo Allora Sono tutti e due Cartonato Cartonati E questo Va benissimo Il Regular È 17x26 Quindi un formato Cartonato Medio Dovrebbe essere Cosa Cosa c'è in più Quello E non riuscirà E non riuscire a mettere A mettere su carta Le proprie Intenzioni Di partenza Cosa c'è in opere Non mi piace Cosa c'è in opere 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 Perché Quasi il doppio Tipo 25x20 20x25 Questo qua Quindi l'edizione Regular è poco più grande L'edizione Collector è grande Quanto un Absolute Però ragazzi C'è Non ci siamo Non ci siamo Per niente Ragazzi La Collector Sono 150 Pagine Ragazzi C'è 150 Pagine Per 30 euro Sono 2 euro A pagina Per 35 euro Sono 2 euro A pagina Si si è cartonato Però ragazzi E quindi La vecchia Non si troverà più E a sto punto Non lo so Perché Se la Magic Press Ha perso i diritti Cioè se i diritti Ora sono Della Mondadori La Magic Press Non la può più ristampare Come con Linkal Poi io non lo so Ripeto Non lo so Come funziona In questo caso La roba dei diritti Però mi pare Che da quando La Mondadori Ha stampato Linkal Linkal Sì giusto Linkal La Magic Press Le copie Della Magic Press Siano finite Sono compasso Io ho sempre aspettato Perché non mi andava La brossura Ma lo capisco Benissimo Ragazzi Lo capisco Assolutamente Benissimo Anche io sono tentato Poi non so Perché annunciano Di nuovo Il cofanetto Di Omnibus Di Riproposta Ok A maggio Vero Che era stato Costicipato a maggio Poi non si sa Che cadenza sarà Non è specificato La cadenza Perché un conto E spendere 35 euro Al mese Un conto E spendere 35 euro Ogni tre mesi Ogni due mesi Già è un po' diverso Ammortizzi Un po' di più Non lo so Non so veramente Se sono in Sincera difficoltà Buono buono Potevano fare Un unico volume Pornolusso Ecco Ecco Beppo Io avrei A occhi Non sto scherzando Io avrei A occhi chiusi Comprato Un volume Di queste dimostri Dimensioni Quindi formato Absolute Anche se costava 80 o addirittura 90 euro L'avrei Che è il Il doppio Praticamente L'avrei preso Volentierissimo Così Praticamente Orsacchiotto La Star Comics Non so perché Ha preso Questa scelta Particolare Con i volumi Occidentali Tipo anche qua Con Plot Holes Di fare due edizioni Due edizioni Entrambe cartonate Però una più grande E una più piccola Quella grande È la Collector Quella più piccola È la Regular Il problema È come stanno Organizzando i costi Perché Per esempio In Plot Holes Quella più grande Costa il doppio Di quella più piccola Per Un po' Cioè Per due centimetri Di altezza Tre di larghezza È una ventina di pagine In più Il doppio Questo qua Fortunatamente Non è il doppio Però Sono sempre 12 euro in più L'avevano fatto anche Per i Cavalieri Allo Zodio Con la doppia edizione Ma è un maior Lo so Io Come l'americano Per le storie Ci sta Anche 90 euro Sì sì ma Infatti Infatti Anche in edizione Oscar Inc Sì sì ma Per carità Così veramente Non mi rendono facile L'acquisto Capite Cioè nel senso Che per me L'opera È un Must have Cioè nel senso Un'opera Da Da avere Da leggere Anche se poi Magari va a noia Perché so che ha Molti a noia La fantascienza francese Ci sta alla fine È questione di gusti Per carità di dio Però Il disegno Di Jimenez Ragazzi Sono veramente qualcosa Vi ho fatto vedere Velocemente le tavole Ragazzi Sono Probabilmente tra le tavole Più belle Che voi Possiate mai vedere In un fumetto In un fumetto Punto Vabbè dai Vediamo Vediamo Facciamo agli altri editori Vediamo cosa c'è Negli altri editori Se c'è roba che mi Attira di più Attira di più Non perché La cassa dei metabaroni Non sia bello Ma che mi attira di più Perché magari Ha un rapporto qualità Ragazzi Sfortunatamente Il rapporto qualità prezzo Si deve considerare La conquista del cielo La nuova potente opera E l'autrice Scelti Ok Ma la tetta di fuori Questa signora Vabbè Allora Dan da Dan Numero 6 Io ancora Soffermo All'uno Dovrei recuperare Gli altri Di Dan da Dan Piano piano Si fa E piano piano Si fa Il primo Mi ha divertito molto Ne ho parlato Quando ho fatto Su Youtube Lo trovate come Migliori video Del 2022 Mi pare Call of the night Numero 8 Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Deluxe 1 Ovviamente Uscito Choujin X Come nuova opera E riesce Tokyo Ghoul Formato Deluxe Formato Deluxe Quindi È una 3 in 1 Una 2 in 1 Mi sembra che sia Dovrebbe essere una 2 in 1 Formato Ecco Ma perché Allora Scusate Scusate Perché Tokyo Ghoul Deluxe Si merita Il formato Perfect 15x21 Ma il dio santo Di initial D No Perché È comunque Una 2 in 1 Anche questa Veramente A chi interessa Perché initial D Non vende come Tokyo Ghoul Ma il col primo Guarda coprono Le vendite Di tutto Tokyo Ghoul Roman Ascoltami Già si è visto Com'è andata Con la variant Vabbè Tokyo Revengers 27 Suka Tokyo Revengers Non ti devo più comprare L'ho venduto tutto Tokyo Revengers Frega di più un cazzo Veramente Una pesata assurda No Con la sovraccoperta Vabbè Sì chiaro Deluxe Edition Ci sta che sia Con la sovraccoperta Che vuol dire Editore diverso White È lo stesso editore E J-Pop E initial D Tokyo Book Tokyo Revengers Character Book Vabbè Ok Ma soprattutto Perché probabilmente Hanno copiato L'edizione Giapa Per i ditti Il formato Non è quello Perfect È una Shinzo ban Io ripeto Il copiare i giapponesi Non è sempre La scelta giusta Che è sta roba Ennuzio Mystery to You Nakare Totono è uno studente universitario Che si distingue Oltre che per i folti capelli Per le sue capacità di osservazione E deduzione raffinate E sopra la media Accusato ingiustamente Dell'omicidio di un compagno di corso Il giovane riesce a scagionarsi Da solo scavando nelle vite Dei poliziotti Che indagano su di lui Sebbene sostenga di voler Tornare a una vita semplice E rilassata Dopo l'ebbrezza Di aver riabilitato Il proprio nome Totono non riesce più A fare a meno Di essere attratto Da un mistero Dopo l'altro Nel suo modo Schietto ma cortese Cercherà di usare Le proprie doti Per dare un senso A un mondo reso Caotico dal crimine Il mistero di Ron Kamono Ashi Numero 5 Medalist Questo era stato annunciato L'avevamo visto Quando vedemmo Il video Dei manga Da Cos'è Come si chiamava Il video I manga Da recuperare Prima che diventino famosi Una roba del genere Ciao 88 Ciao arrivo ora Ci sono particolari cose Già viste Da segnalare Insomma Degne di essere viste Dal sottoscritto Ad altri potenti utenti Arrivati solo ora A vedere la live streaming Del siciliano Ragazzi il bel passo Velevo Zenone Tomasello Detto allo In su 23 sul web In particolare Sulla piattaforma viola Di nome Twitch E io mi sono segnato Star Comics Dragon Ball My Hero Academia Welcome to the Barron Record of Ragnar Rokado E Kenshin Basta Cioè poi c'è una roba Relativa alla casta Dei metabaroni Però poi si pensa Vabbè Non so se recuperarlo Onestamente questo Le tavole Non mi dispiacevano Il tizio me l'aveva venduto Anche bene Quando vedemmo il video Me l'aveva venduto Anche bene Però Non credo Dance Dance Dancer Il manga di Siegfried Insomniac After School Comic and Communicate Oshinoko Oshinoko Quello della Che era surreale La trama Della Della idol Che veniva Che veniva stuprata E rimaneva incinta Una roba surreale Smile down the runway Non tormentarmi Nagatoro Godo perché Non devo più segnare Nagatoro Perché anche questo Eccolo qua La conquista del cielo Di Udori Signorine Signorine ammiccanti Amélie È una giovane Cattolica Sposata con Hans Mercante dell'alta Società olandese Della metà Del XVI secolo Egli è tutto Ciò che una donna Di quell'epoca Potrebbe desiderare Da un marito Ed è perfino Di bell'aspetto Tuttavia Di lui Amélie Apprezza solo una cosa Il suo appetito Per il pollo arrosto Con il suo carattere Indipendente Ribelle La donna Patisce Di doversi Sottomettere Al ruolo di moglie Secondo catene Di convenzione L'unica via di fuga Per lei È la propria immaginazione Essendo i mari E le terre Già monopolizzate Dalla società patriarcale Amélie Intelligente E motivata Compi in segreto Studi scientifici Per realizzare Il sogno Di conquistare l'aria Unico possibile Terreno di conquista Rimasto Per invadere il cielo E avvicinarsi a Dio Quando Hans Di ritorno Da un viaggio Di lavoro In terre lontane Porta a casa Con sé Una giovane schiava Le due donne Formeranno Un legame profondo Che potrebbe trasformarsi Per entrambe In un veicolo Di libertà Si assoglia un po' A cara della vigne Ma quindi si parla Di voler Volare Di pollo arrosto Di sforbiciati Di lotta Di patriarcato Non ho capito Un cazzo Si io non ho capito La cosa del pollo arrosto Onestamente Mi ha stunnato Anche a me Credo sia Credo sia Una Una Utilizzando Utilizzando Il parallelismo Storico Di una società Passata Parlare Di tematiche Attuali Credo che La base Sia questa Poi Se ci sono anche Altre cose All'interno Non lo so E' un volume unico Formato Perfect edition Quindi Il giusto Cartonato Con sovraccoperta 20 euro 360 pagine Bianco e nero Più colore Non credo Sia Personaggio Bidimensionale La trascura Ma gli piace Il pollo arrosto Esatto Vabbè Non lo so Ragazzi Non lo so Ci sono alcune cose Che mi interessano Altre un po' meno Quindi 20 euro Forse no Andiamo avanti Nuvole al nord ovest 6 BJ Alex L'ottavo box Ah già L'ottavo box Blood bank Stagione 2 Cosa sta facendo No Ancora nessuno Dai Non so Ancora nessuno Gaku Questo è un Isaiya manga Me lo sento Proprio nel palato Sampo Shimazaki Ha dedicato la vita Alla montagna E' considerato Uno specialista Delle vette più elevate E' in qualità Di membro volontario Della squadra Isaiya è lollo Della squadra Di soccorso Delle alpi Settentrione del Giappone Sfrutta ogni giorno La propria conoscenza Per salvare camminatori Disattenti Sciatori in pericolo E scalatori incoscienti Perché amare la montagna Non significa solo apprezzarne L'immensa bellezza Ma anche rispettare Le spaventose innumerevoli Asperità E nasconde E conoscere tutti i metodi Per sopravvivere In quelle condizioni In immaginabili Scopri le avventure Mozzafiato Degli uomini Che vegliano Sulla vita Degli alpinisti Spostando sempre più in avanti La striscia Dei propri limiti Lungo sentieri Non battuti Dell'avventura Ah è dell'autore Che ha fatto Blue Giant Assurdo Mi piacciono i disegni Però ha storie autoconclusive Quindi credo Boh Ah sono storie autoconclusive No vabbè I disegni Sì vabbè Ho visto quelli di Blue Giant Quindi presumo Presumo Che Che sia Sempre quella qualità Però storie autoconclusive Valerio scusa Mi ripeti un po' Il titolo del fumetto di prima Sali un po' Torna indietro Ma qual è quello Delle signorine La conquista del cielo Questo qua Oppure BJ Alex Oppure Blood Bank Stagione 2 A posto Oddio Ciao Mauro Da quando il sogno Di lavorare Nel mondo accademico E collata a picco In un mondo crudele A Zusa Tira avanti Come insegnante In una scuola di campagna E trascorre le sue giornate A sopportare il terribile trattamento Che riceve Sia dei suoi studenti Che dei suoi colleghi Quando viene a sapere Che la sorella minore Ruka L'unica parente Che le è rimasta E coinvolti in un grosso Quagliattoglio A Zusa Decidito Nella grande città Dove si troverà A dover affrontare Yakuza E minocce spiegate Da sospetti Malavite E azioni In pieno stile Heartboiled A dover affrontare Ma c'è A parte che È interessante È interessante L'uso delle ombre Però Vedo Vedo È impossibile Devo andare La nave di Teseo È riuscito a finirlo Incredibile opera Quello proprio di cura Però a me Che io non ho Uniti Oppure non mi dovete C'è il porto per bito Le ragazze Il pilar Poi l'ultimo Che era uscito Quale era stato Questo Tosca dei boschi Non mi ricordo Non forse vi reagiamo Fabio Mancini Unboxing Pandora Una rivisitazione moderna È il mito Del vaso di Pandora Iperolibori Che si appresta A diventare oggetto Di passaparola Fortissimo Quando Chloe La nuova vestale Del vaso Lo rompe inadvertitamente Costretto a partire Per un viaggio Vabbè comunque Una Rivisitazione Bello lo stile Ricorda Ricorda molto Com'è che si chiama Quel webtoon Che usava I miti classici Aiuto Com'è che si chiama Aiutatemi Aiutatemi L'Orolimpus Grazie L'Orolimpus Ricorda molto Bellino Molto bellino All un anno fa Non Agorafobia Un anno fa Era il mio 87esimo Compleanno Era l'87esimo Compleanno Di mio Nonno E tu non eri Al funerale Non mi abbono più Mazzucate Tutti Dio santo Dax Questo si segna Questo si segna Ve lo minchia 27 euro Questo me lo volevo Segnare Era Era una delle opere Più apprezzate Del 2022 Era una delle opere Più apprezzate Del 2022 E lo vedemmo Quando a fine anno A inizio anno Vedemmo le varie Classifiche Dei fumetti Internazionali Più apprezzati E Dax C'era sempre Praticamente Giocano 27 euro E' un libro Di ricordi Dolorosi Ma necessari Uno spaccato Di vita Autobiografico In cui L'autrice Racconta I suoi anni Passati A lavorare Per una Compagnia Petrolifera Unica Donna In un contesto Sempre troppo Permeato Di Mosconilità Tossica Subisce Violenze Psicologiche E fisiche In un Crescendo Di Brutalità Che non Fa sconti Praticamente Il mio Discord Quando entra Una ragazza Un libro Che però Assume Tony Di una Storia Di ricordi Non di denuncia Che si rivela Proprio per questo Tanto più toccante E intenso Teniamola a mente Ragazzi Teniamola a mente Bello che Per 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 pubblicizzarlo C'è scritto Barack Obama's Favorite Books Ah no Ma si vede Che è proprio Una classifica Che fa Obama Dei suoi libri Gli preferiti Dell'anno Ho capito Ecco Noi avevamo Visto Forse Il Quello Del New Yorker Forse Quello Del Time E quello Del Guardian Come Migliori Graphic Novel Vabbè Che Il nuovo Fumetto Di Terry Moore Ma perché Sto mese Tutti Sti Annunci Perché Perché No No Non è Cugino Di Alan Allora È quello Che ha fatto Stranger in Paradise Che è uno dei più bei fumetti Di sempre Uno degli autori più amati del catalogo Bao Capostipite del fumetto indipendente americano Ora qua forse i signori di Bao Allora il capostipite del fumetto indipendente americano Con il massimo rispetto per Terry Moore E Robert Crumb Quindi Vabbè È talento immenso esploso Prima con l'imprescindibile Stranger si impara Dai se successivamente con progetti quali Echo Rachel Rising E tanti altri Torna a raccontare storie Che hanno come protagonisti Alcuni tra i suoi personaggi Pi conici amati di sempre E così Zola Bambina posseduta Ah quindi comunque è collegato Ok allora è collegata ad altre opere Vabbè Vabbè Non beh Presentato in Italia Autoconclusivo Sarà suggellato alla presenza Che vuol dire questo Scusatemi Gian Maria Dov'è Terry Moore quest'anno Scusami Perché non lo dicono Dov'è No Napoli Sarebbe stato già annunciato Sarà suggellata Dalla presenza di Terry Moore Stessa in Italia Dopo tanti anni in attesa Da parte di suoi noministissimi fan Lucca Dai che io non ci voglio andare A Lucca Terry Moore ragazzi Autore Leggetevi Stranger Seimparadest Tutti Subito Sì All'Etna Comics Impazzisco Ma poi Non credo che About Tra l'altro Non viene da un paio d'anni All'Etna Comics Quindi non credo Mi sa Comic Con Valeria importantissimo Non si potranno più mettere le canzoncine No Darò 500 euro A Gianmaria Mi farò fare Le firme Da lui Ragazzi Se non mi chiamano Non è che non mi chiamano Se non si può fare Quella cosa Che pensavo Per il Comic Con Non ci posso andare Ragazzi Dai Non ci riesco Economicamente Vabbè Aomaggio Numero 4 Love Everlasting Variant Ma non l'avevano già annunciato Love Everlasting Scusatemi La nozione delle fumetterie Onti Dal 10 aprile Al 7 maggio 20% Su tutto il catalogo BAO Escluse le novità Degli ultimi 6 mesi E E Allora Il 10 aprile Necessariamente Prima della maratona Dovrò fare la live Altrimenti Poi non riesco A montare il video Perché sarò distrutto Oppure No Non mi va di metterlo Come content Per la maratona Vabbè Comunque Probabilmente Nei giorni Prima della maratona Ragazzi Farò un video Come faccio ogni anno Dove consiglio Un po' di opere Della BAO Che Fanno parte Della promozione Poi carico il video Anche su youtube Appena Appena parte Effettivamente La promozione Va bene Prima del 10 puoi Sì 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 Sei Mike Perché io la maratona Ce l'ho Il 6 aprile La maratona Ce l'ho il 6 aprile E Prima faccio il video Tanto è facile farlo Perché anche se Non è già partito Lo sconto Con il fatto che Già sai che devi escludere Le robe degli ultimi 6 mesi Io mi faccio una lista Molto velocemente Mi faccio una lista Della roba che Sarà inclusa Nella promozione E consiglio quelli Easy In che senso Praise No la faccio Lo faccio Il content A riguardo Però escludi Quelli già consigliati Va bene Se si può fare Sì Massimo rispetto Non è che c'è tantissimo Da recuperare Poi vediamo Anche perché Nell'ultimo anno Si sono incluse cose Che non erano incluse In quelle dell'anno scorso Perché appunto Non erano passati I cazzi E va bene Ora c'è la roba Bonelli Ma sapete io Cosa penso A riguardo Quindi si fa così Vabbè dai Bonelli è riuscito A farmi fermare Già è qualcosa Già è qualcosa Era riuscito A farmi fermare Un attimo Ok Va bene Cerca un po' Imperatore del Giappone No no ma lo conosco Conosco anche quel manga Gian Anche quello era Nella Nella lista Delle cose Da recuperare Scusatemi ragazzi Ah ok no ok Money Comics Money Comics Ok Ehm No 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 Gian Bonelli deve fare Veramente qualcosa Di incredibile Per riuscire Ad avere i miei soldi Allora Key Svans Sì No Vabbè La roba Che abbiamo già visto La La Allora Jpop L'abbiamo visto Ehm Ok 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 Questa è tutta roba Jpop Qualche volume fallato Yallo Questa l'abbiamo visto L'abbiamo visto Quanto cazzo era lungo Jpop Dio santo On T E si inizia subito Prepotentemente Ragazzi Con questo Sì ragazzi Questo da recuperare Assolutamente Do a powerbomb Di Daniel Warren Johnson Ora Assimilate Assimilate La potenza Di questo fumetto Un attimino Che io prendo Il Cosa Vabbè La Spawn variant Allora Che cosa mi hai mandato Jallone Cosa mi hai mandato Dov'è Jallo Non sono taggato Da nessuna parte Jallone Taggami un attimino Fast Eccoci All'interno del volume 11 Di Dragon Ball Ultimate Edition È stata erroneamente utilizzata L'illustrazione iniziale Del volume 10 Il problema è già stato Segnalato all'editore E vi aggiorneremo Se ci saranno novità In merito Benissimo Benissimo Allora ragazzi A parte questa piccola Gags Di Star Comics Allora Due powerbombe Allora Sapete già come La penso io Su Daniel Warrior Johnson Secondo me È uno degli attori Più interessanti Da seguire Negli ultimi anni E Aveva Ha Una grande passione Daniel Warrior Johnson Ovvero Il wrestling Il wrestling Piace Veramente Veramente Tanto A Daniel Warrior Johnson E ha deciso quindi Di usarlo Come Parte Del 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 contesto narrativo Di questa nuova Sua opera Appunto Due a powerbomb Però Vi assicuro Che è molto altro Cioè Non è una Non è un fumetto Basato Unicamente Sul mondo del wrestling Vi assicuro Che c'è Anche Una buona dose Di fantascienza Dentro Lona Steelrose Vorrebbe Sfondare Nel mondo Del wrestling Ma per ora Vive all'ombra Del grande successo Della madre Campionessa morta Sul ring Quando Lona Era bambina Le cose cambiano Però il giorno In cui un misterioso Negromante Ossessionato Dal wrestling Invita Lona A partecipare Al più grande Violente Pericoloso E transdimensionale Torneo di wrestling Che sia mai esistito In palio Oltre alla cintura Che fu già Di sua madre Anche la possibilità Di riportare in vita La donna Quindi praticamente Ragazzi Non ho letto La parola sbagliata Ragazzi È una parola Italiana Quindi non vedo Cosa ci sia di sbagliato Quindi praticamente È Il torneo del potere Di Dragon Ball Però Fatto Alla Wrestling È un po' come Il Come che si chiama Kinikuman Kinikuman Ecco Altra grande opera Che apprezza molto Il signor Daniel Warren Johnson Allora La variant Ragazzi In realtà Perché c'è Spawn nella variant Perché La La image Questa è un'opera image La image Qualche mese fa Per il Trentesimo Anniversario Di spawn Ha fatto Per tutte le sue testate La variant Di spawn Quindi Semplicemente Una variant Con quello Quindi Io onestamente Vado di Regular Cioè Edizione normale Costa Lira di dio Cioè lira di dio Costa il giusto Costa 25 Il giusto Potevano farlo Costare 20 Però va bene Rispetto Rispetto Per i nostri Fratelli Della salda Perso che fanno Sempre un ottimo Lavoro Sono Una delle poche Case editrici In Italia Che presta Molta attenzione All'esperienza Finale Che poi può avere Il lettore Quindi 24 E 9 Volume Autoconclusivo Sì 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 Volume Autoconclusivo Hanno appena annunciato La serie nuova Anime Di Kinnikuman Nuovo anime Di Kinnikuman Finalmente In manga In Italia Non Non lo so Mi lamento Gianna Perché una volta I cartonati Costavano 19 euro E 90 Ora sono aumentati A 24 E 90 In perplime Questa cosa Vabbè Andiamo avanti Mar del Falcon L'Ultimate Edition Questa sarà Presentata In In anteprima Al Al Comic Con Se andate Al Comic Con Potete recuperarla lì Dato che c'è anche Daniel Warren Johnson Presente Quindi magari Potete anche Ottenere una film È un'opera Molto Molto Ignorante Nel senso che Qua si diverte Si diverte Si diverte E butta dentro Tanto gli anni 80 Daniel Warren Johnson Quindi Se volete Un'opera leggera Con disegni Fuori di testa Acquistatela Acquistatela Dice sempre Cose tipo Sto lavorando per voi Ma chi? Dario Moccio Fa il sospettoso Quando si parla Di Kim Nickman Ah Può essere A Discover Country Numero 4 Bellino Molto bellino Come fumetto Sex 2 Il sesso È stato appena Reinventato Ragazzi È uscito Il sequel Del sesso Finalmente Vabbè questa Avevamo già visto Il primo Quando era stato Annunciato Il mese scorso È l'opera Dello stesso autore Di Toi Sempre edito Alla Saldepress Rogue Sun Non conosco Cos'è questa cosa? Con Catacrisma Volume inaugurale Della serie spin-off Rogue Sun Lo scena Lo scena Di Radiant Black Ah ok ok Lo spin-off Di Radiant Black Ok Che ancora Devo recuperare Tra l'altro Ok Vedo che sta andando bene Radiant Black Se già iniziate a sfornare Lo spin-off Come fu per Invincible Tra l'altro Chissà che fumetti Portano dopo Camiglio Allora Quando annunciarono La nuova collana Mangaka Che è la collana Con la quale Saldepress Produce Produce Edita I manga Avevano annunciato Soltanto queste due Quindi Toi E Sex Se sono andati bene Io non lo so Se sono andati bene A livello di Di vendite Di ricezione Del pubblico Se sono andati bene Non vedo perché no Wonton Sap Due Di due Del Del De un autore Che prima di questo Io conoscevo Soltanto per Godzilla Su cui aveva fatto Anche un buon lavoro Bikini Armors Numero due Quindi abbiamo finito Ah no Era ancora salda Per essere Bikini Armors Ok L'ignobile Sherman Un graphic novel Avventuroso Piratesco Ed estremamente divertente Scritto dal pluripremiato Sceneggiatore Lorenzo Palloni E disegnato Da Alessandro Marsili Improvvisa scomparsa Del vecchio Arthur Stigemann Come involgere la vita Dei suoi quattro eredi Un cocchiere Squattrinato Indolente Padre di famiglia Un'irascibile Nobile Decaduta Un armaiolo Con un'inizaziabile Sede di avventura E infine L'unica ad essere E stata educata Dal deceduto Stigemann In persona Riuniti per la prima volta Per l'ultima volontà Dello stesso Arthur Ben presto i quattro cugini Scopriranno che Per ottenere la tanta Ambita e eredità Dovranno fare ben più Che sedersi Di fronte a un notaio Per la lettura del testamento E soprattutto Fare i conti Con la vera identità Del pirata Sherman Praticamente è Teste di cocco Non so se avete mai visto Il film Teste di cocco Con Alessandro Gassman E Il figlio di Tognazzi Quello cazzo si chiamava Mio corto Spende quello Non lo so Matteo Io ho detto che Se Le opere di Camiglio Hanno avuto Un discreto successo Allora salda Per se ne porterà anche Alte Non so Nei prossimi annunci Probabilmente lo diranno Spillatino di Godzilla The Walking Dead Color Edition E basta Finita la parte Salda Per se va bene Andiamo avanti Questa è tutta la roba Bonelli Poi Shock Dome Vediamo se c'è Ora qua ragazzi Andrò un pochino più veloce Se vedo qualcosa Che mi interessa Magari mi fermo Come sembra Lo sapete Bao Publishing L'abbiamo visto Valerio per piacere Non scappare le tue responsabilità Rispondimi Valerio Manon Se mi prendi in giro E mi sento offeso Potresti rimediare Dove ti ha preso in giro Ikari Vediamo Ikari Rokuda Rokuda La nuova opera Tinta e thriller Del sensei Rokuda Con il continente africano Protagonista Dopo otto anni in Africa Il fotoreporter Kotaro Imuro Torna in Giappone Per ricevere un premio In quell'occasione Incontra Eriko La sua ex moglie Desideroso di far scoprire L'Africa La loro figlia Aya Kotaro tenta di convincere Eriko A lasciarla andare con lui Senza successo Qualche giorno dopo Eriko gli annuncia Che la loro figlia È introvabile Restano solo alcune foto E a dir poco strano Inizia il disperato tentativo Per questo paio Di ritrovare Sua figlia 3 ore e 50 Si potrebbe anche fare Si potrebbe anche fare Onestamente Due volumi Non è anche tanto Due volumetti Ragazzi Vabbè su Discord Allora sono problemi Di Discord Cyber Io Madonna Mi devo Avevo lasciato in forse Comunque tante cose Avevo lasciato in forse Cosa avevo lasciato in forse Jpop è nulla Mi pare No Jpop non avevo lasciato nulla In forse Solo la casta di metabarone Avevo lasciato in forse Allora Si Capiamo Capiamo Perché ho paura Perché ultimamente Editoriale Cosmo E Alessandra Editore Hanno annunciato roba figa Del fumetto francese Quindi vorrei capire Se c'è anche Altra roba del genere Capiamo 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 No Zombie 100 Non lo segno Non lo segno Perché non sono in pari Io non mi segno Nuovi volumi Di opere Di cui non sono in pari Quindi siccome Con Zombie 100 Soffermo al volume 5 Mi pare che avevo detto Mi pare di sì 5 E allora E allora Non lo segno per questo No cinema Non l'ho letto Non l'ho letto Alex So che è suo Ma non l'ho letto Onigo Roshi Irene of Love C'è tutto il box Anche Che era con i primi Tre volumi Chi è sta signorina Ana l'inaccessibile Gendi Roshima 7 di 10 Kill Adelfia 2 Burn Baby Burn 35 euro Per 200 pagine Dragon Age Fumettino di Dragon Age Nani The Art of Cuphead Show Dario Moccia Fumetto Cioè fumetto Libro Prende l'artbook Della serie animata Di Cuphead Insomma Fumettino di Doctor Who Savage Dragon Freebooters Di Barry Windsor Smith Mannaggia A chi so io No però è brossurato Si Si schippa Ah vero Che era la roba Della Delle storie Di Barry Windsor Smith Vero Anche la del mese scorso C'era stata questa Da Gags Ecco Perché non fare Perché non fare Questo Cartonato Cioè È un Un artbook Che senso ha farlo Brossurato Farlo cartonato Dagli un Un'edizione Migliore Vabbè In carte story No guarda Classico utente Della mia community Questo è Io cerco di fare Cambiare atteggiamento Alla mia community Ragazzi ma È difficile Finché c'è gente Come Cyberfox Come Lollo È veramente difficile Di Zoli Cos'è No Allessand Editori Oh Si Ditko Le robe Horror Di Ditko Carino Ecco Ecco Questo Questo Prima o poi Hanno sbagliato Qua Hanno rimesso Goodwin E Ditko Adesso prima o poi Si recupera Adesso prima o poi Si recupera Perché Quest'autore Emil Bravo Ha fatto Diverse Utilizzando il personaggio Tanto amato Di Spirou Lo ha Inserito In contesti Narrativi Completamente Diversi Dal passato Scrivendo queste storie Molto 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 profonde Ma anche Molto interessanti Proprio a livello Narrativo Da leggere Molto figo Molto molto figo Ti prego Dimmi che Ma perché Rizzoli Perché 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 di nuovo Brossurato Anche la prima volta L'hanno fatto Brossurato Chanky Rice Mi pare che Anche la prima edizione Fu Brossurata Di Addio Chanky Rice Bellissima Bellissima opera Di Craig Thompson Tra l'altro Mi sembra che anche la prima Fu Brossurata Di Addio Chanky Rice Vabbè Walzer Combashir E di questo Ne abbiamo parlato Giusto Poco tempo fa Di questa qua Di Walzer Combashir Brossurato Sì ma sto vedendo Di sempre David Jones Noto al resto del mondo Come David Bowie Minchia 50 euro Lo faccio Persepolis Edizione Tascabile Tanto c'è l'edizione Non Tascabile Di Persepolis Una delle opere Pi' importanti Del fumetto Tutto Ragazzi Se non avete mai letto Persepolis Fatevi in favore E leggetelo In ogni formato In ogni edizione Cazzo me ne frega Basta che lo leggete Le avventure Di Giuseppe Pignata Di Magnus Bello Il Corriere dei Piccoli Bacchus Sabe questo Già l'avevamo visto Onti Madonna Perché poi Tutti Tutti insieme Perché tutti insieme Perché tutti insieme I cazzo di saldi Perché Dal 21 al 30 Ah però Una settimana Praticamente Perché Nicola Pesce Perché Una settimana Vabbè Poi vi farò qualcosa Anche per la Nicola Pesce Poi vi farò qualcosa Anche per la Nicola Pesce Perché C'è tanta roba Sconosciuta Che Edita Dalla Nicola Pesce Che è meravigliosa Ragazzi Quindi poi vi farò Ma non solo di fumetti Attenzione Diversi Saggi Comunque volumi Sulla storia Del fumetto Sono editi Dalla Nicola Pesce Quindi Poi vi farò Qualcosa anche per questo Però mi devo iniziare a segnare Vabbè Questo è più avanti Però Questo è il 21 aprile Quindi Volendo La roba per la Nicola Pesce La potrei fare La settimana dopo La terza settimana D'aprile Quella che va Dal 10 al 15 Giusto per non fare Tutti insieme Vabbè Qua è la roba Della Leviathan Questa è tutta roba Della Leviathan Molto interessante Magari un occhio Un giorno io la darò Trovate anche Digitale La Leviathan Produce anche In digitale Non solo in fisico Quindi se andate Sul loro sito Capirete A caro prezzo L'opera sulla quale Baru ha lavorato Per oltre 20 anni Si conclude La minisaga Di a caro prezzo L'opera In cui Baru Traccia un affresco Delle vicende degli italiani Che emigrano in Francia Tra la fine L'ottocento E gli anni Settanta Del secolo scorso Il terzo volume Si apre con lo spettacolo Malinconico Allo smantellamento Di un alto forno Da parte del giovane Teo Che da bambino Scendeva nelle viscere Infocate del mostro Che portava la gavetta Per portare la gavetta Al padre di operaio Impegnati in interminabili Torni di lavoro E prima o poi I soldini Alla oblum Of Sidan Itomi Un ritratto Non idealizzato Del Giappone E dei samurai Nel Giappone feudale La giovane Itomi Va alla ricerca Dei samurai Che anni prima Ha ucciso Del samurai Che anni prima Ha ucciso La sua famiglia Con inaudita ferocia Yasuke Questo è il nome Del samurai E' stato un Guerriero famoso Ma ora in disgrazie Si guadagna da vivere Con incontri di sumo La giovane Ghi chiede di insegnargli I segreti della spada E intanto Secretamente Cova la propria vendetta Combinando Kurosawa E Tarantino Questa minisaga Segue le prove E le tribolazioni Di una giovane Guerriera Che viaggia Incessantemente Per la campagna Per guadagnarsi Il grado di samurai In una società Violente Patriarcale Formato classico Della Oblomov Quindi bello grande Tokyo Goodbye Una celebre raccolta Di racconti brevi Genere del quale Oji Suzuki E' maestro Però racconti brevi Non me la colno Ne ho letti troppi Ultimamente Sembra carino Però Sembra carino Questo si comba Perché è geckica Vabbè Però stai diventando Veramente Vabbè Legends and Lattes Vabbè Non mi fermo Più di tanto Eccoci Motez fumetto Manunz fumetto Pokémania 2 25 imperdibili Pokémon Nelle loro storie Vabbè No Stai diventando Come quelli Che Comprono Solo manga Dungeon and Dragons L'onore dei ladri Il romanzo Chi è questa signorina? Ah no Speravo in qualcos'altro Invece D&D Vabbè C'è questa Oddio Kamimura Attenzione Love Prima edizione Al mondo In formato monografico A 50 anni Dalla prima pubblicazione Su rivista Arriva finalmente in Italia Il frutto Del suo adelizio Artistico Tra Kamimura Kazuo E il regista Nakajima Satao Che cos'è l'amore? L'amore è tenerezza L'amore è passione L'amore è sofferenza L'amore è tormento L'amore è vendetta Pubblicato sulle pagine Comic & Comic Love è una perla rara Che racchiude al suo interno Tutta la poetica di Kamimura Eros Amore Passione E risentimento Il racconto Prende vita Da un passo Del simposio di Platone Aldo Giovanni Giacomo Momento Quando Aristofane Affronta il mito Delle metà Esatto Aldo Giovanni Giacomo Momento Andiamo avanti Andiamo avanti Allora Love Ma Quasi quasi Un pensierino Eh però anche qui Ma nonchè 200 pagine Scusatemi Ecco colino Sì E io c'ho Quello Gpop Eeeh Scusatemi Ma l'altra roba Di Kamimura Così tanto Costa per pagine Per numero di pagine Ah 350 pagine Cartonato Stesso Stessa cifra Stessa cifra Stessa cifra So 350 L'ha detto la marca Ci fidiamo di nostro padre Paolo La marca E tra l'altro Eeeh Conterraneo Ok Perfetto Perfetto Allora Ok Già 350 pagine 35 euro Le vediamo Va bene Eeeh Allora Coconino Coconino Altri editori Eccoci qua Love 25 Ok I fanatici Del Gekika Che praticamente È il cortello Ma però questo Già era stato annunciato Lo ricordo male Ricordo male Non mi ricordo Può essere Può essere Ma lo ricordo Chiedo immediatamente Scusa A chi? A chi devo chiedere Scusa Gianna Ma la marca Veramente è conterraneo Non sto scherzando Paolo la marca Ospite la maratona Paolo la marca Volendo Se è qua a Catania Perché mi pare Che insegni anche Qua a Catania Se è qua a Catania Lo posso fare Ospite Irle Volendo Lo posso avere Ospite Gli chiamo Paolone Annunciato E mai portato Finalmente lo portano Ah ok 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 Buttalo dentro Esatto Sofia Kovalevskaya Kovalevskaya Dov'è Vittoria Perché mi sembra Un nome Dell'est Europa Dov'è Come si pronuncia Questo nome Non c'è Vittoria No mi sa che Non c'è oggi Vittoria Vabbè Si insegna Tipo Giapponese Sì 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 Ma me lo ricordo Quando venne Da Dario Ospite Esaia Si parla Di un anno e mezzo Fa Due anni fa Ormai un bel po' Di tempo fa È stato Io ovviamente Ai tempi Mi andavo a cercare I link No come ora Che ho Gian Maria Che fa tutto Prima Mi andavo a cercare I link Mi andavo a documentare Su cosa spammare Cosa no E appunto Avevo visto Il suo Avevo visto Che era siciliano Cioè che era Non so se è proprio Catanese Non mi voglio esprimere Però Avevo visto Che era siciliano Che tra l'altro Insegnava anche A Catani Quindi Niente Mi ero letto Il programma Del suo corso Si studiavano anche Alcuni manga E la cosa dei romanzi Sul cellulare Ci sta Alla fine lui è anche Molto giovane Vabbè Ai tempi di boccian Perfect edition Che vuol dire Perfect edition Perché hanno scritto 2 e 1 Al contrario Vabbè Lo schermo bianco Shubeik Lubeik È la nascita È la nascita di una nuova voce Del fumetto mondiale Ironica Poetica Millante E femminista Dina Mohamed È stata inserita Dal Washington Post Tra le 5 donne Che migliorano il mondo Per la giornata In detenzione della donna Tutti i desideri Si possono realizzare Basta avere abbastanza soldi Per comprare la bottiglia Che gli racchiude Il coraggio Di affrontare le conseguenze Messe di fronte A questa possibilità Le tre orine Di Shubeik Lubeik Faranno scelti inaspettate E ci porteranno A interrogarci Su quello che davvero vogliamo Dall'Egitto L'esordio di una autrice Che usa il realismo magico Con un'abilità Grazie a autenticità emotiva Praticamente La figlia artistica Di La figlia artistica Di Marjane Satrapi Solo che lei è iraniana Questa è egiziana 500 pagine 28 euro Ma che editore è Scusami Sempre Cocconino E ai tempi di Bochan Costa 24 euro a volume Sono due volumi A 24 euro a volume Interessante Deep me Prosegue l'indagine L'indagine Di Marco Antoine Mathieu Intorno al grande Perché lo conosco Mathieu Oddio Perché lo conosco Mathieu Perché il nome Non mi è nuovo Lo conosco Cartonato 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 Bochan Si 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 Cartonato Cartonato No Scherzo Brossorato Brossorato Come non detto Strano 24 pagine Brossorato 24 euro Brossorato Dissero cartonato In live Non lo so Ragazzi Probabilmente ci sono Degli errori Perché era anche Prima con Con love Mi avete detto Che il numero Di pagine Era sbagliato Quindi forse Ci sono degli errori Se in live Hanno detto Cartonato Probabilmente Sarà cartonato Infatti Io ho detto Così a sentimento Cartonato E Isaia Perché per la cifra Onestamente Per la cifra Ragazzi È una cifra Da prodotto Cartonato Lo tengo in considerazione Capiamo Anche perché ci sono Un bordello di cose Che ho lasciato in forse Senza semi La cassettiera Di papà All of you Of machine and beast The demon king champion Uno Arriva il cartaceo Il webtoon Con più Di 500 milioni Di lettori digitali In cina E 50 mila lettori Di soggiundo In italia Ok Capitolo uno Sono stati trasportati In un nuovo mondo Cazzo Questo è il fumetto Di sopra Ora letto così Scorrendo verticalmente Ha un po' di senso Un po' Vabbè Ha il suo senso Però immaginate La pagina Dove in metà pagina Ci sono due vignette Fatte così Vabbè Ciao son barba Alice in wondernet Ok Gatto Questo è proprio totore Questo è totore Sesso Gatto pepe Show Donnine mezzanude Dove? Che mi sono perso Dove le hai viste Le donnie mezzanude? No Non ci sono Ah forse qua No Riviste cartonate Belle Gianne sta parlando Come il mio professore Di economia e management Dei media Ah eccole qua Senza veli Mi sa che le cose Si sono finite Finito Va bene Però devi mettere Un sottofondo musicale Avete visto O lo rinventi tre ? Dove? No 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 No